Il momento dei compromessi, vai lì e digli che i termovalorizzatori si fanno, che i rigassificatori si fanno, che non si investe sulle pensioni ma sulla scuola, che si costumisce una classe di persone competenti, che si va in Europa a combattere se in Italia si fa il proprio dovere, che non si chiedono le mance a nessuno e non si danno mance a nessuno e soprattutto che questo non è solo il paese dei diritti ma è anche il paese dei doveri. Vai e diglielo in faccia perché il paese sarà con te, vai e diglielo in faccia che noi siamo atlantisti europeisti, non c'è margine per putinisti di complemento in questo paese, vai e diglielo in faccia perché questo paese è con te, ci siamo rotti le balle di avere dei rappresentanti non altezza della nostra storia e delle persone che stanno in questa piazza e nel resto del paese. Vai combatti e saremo con te, vai!